L'immagine per uno che lavora sui social è tutto e allora guardate Logan Paul che a Restylmania ha al collo la carta più rara mai stampata e diffusa per quanto riguarda i Pokémon. Si tratta di una carta che vale più di 5 milioni di dollari, è la Pikachu Illustrator, ne esistono soltanto 39 esemplari al mondo e questa ha un grading di 10, di 10 il massimo, esistono delle agenzie che vanno proprio a guardare la qualità, le pieghe, la stampa e danno la gradazione e questa ha il 10. Quindi il top è in tonsa, è la più desiderata al mondo, per questo ha un valore astronomico e pensate che il catenone con la protezione per la carta vale, costa 80 mila dollari. Logan Paul se l'ha fatto fare apposta e solo questo ha un valore, ha un costo ingentissimo, capite? 80 mila dollari di protezione. Dov'è che se l'è comprata? A Dubai, dove ha fatto un viaggio apposta per fare questo acquisto. Tra l'altro c'è anche una news secondaria su Logan Paul e pare che nel suo contratto sia stata inserita proprio la clausola di una run da face, quindi di un periodo da buono, di un cambio di allineamento morale, ed è ragionevole ipotizzare che questa direzione, questa nuova strada, verrà aperta con la sua prossima futura apparizione in WWE, quando sicuramente cercherà di vendicarsi di The Miz per il tradimento subito a Vrestelmania. E voi? Voi siete mai entrati nel mondo delle card collezionabili? Beh, lo sapete, io acquisto Magic, vendo, gioco, scambio da tanti anni, però la card più rara che ho varrà 200-300 euro, non di più. Qui stiamo parlando di una card a 5 milioni di dollari. E se voi avete giocato a Pokémon, a Magico, agli altri, avete delle card più rare delle mie, avete delle card di valore, fatemelo sapere qui sotto nei commenti.